Vi trovarlo, volete, anche perché qui l'abbiamo fatto scorrere molto velocemente, sono certo, grazie per l'attenzione, abbiamo inserito tutta l'organizzazione di Giorgio e fotografie nel sito dell'Istituto del Presidio Statale alla Costa, per Rara, Mante, nel sito Mode, e qui potete trovare gli interventi e visionare questo campo. Grazie. Grazie.